Ciao da Absim, difficilmente riesco a digerire, difficilmente riesco ad accettare le dichiarazioni di Sarri dopo Lazio-Genua 1-0 di Coppa Italia, la Lazio vola, vola nel cielo, va avanti nel torneo, una partita tristissima, una partita bruttissima, una partita lenta, vuota, noiosa, soporifera, soprattutto il primo tempo. Si è fatto fatica ad andare avanti, a un certo punto ho detto vabbè chiudo, tanto cosa guardo a fare, poi ammetto di essermi magari distratto per qualche frangente nel secondo tempo, mi è sembrato che ci sia stata una maggiore intensità, quindi ho detto vabbè alla fine non ho buttato tutto questo tempo, il secondo tempo era magari da guardare, tra l'altro partita che poteva anche riaprirsi, ma comunque anche il Genoa per quanto stia crescendo tanto i dati lo dimostrano e quindi bisogna anche attenzionare in positivo Gilardino perché sta facendo un buon lavoro. E' stata la squadra ieri veramente apatica, scialba, zero pressing per gran parte della partita, si lasciava la Lazio palleggiare serenamente in orizzontale con i difensori e con l'abbassamento dei centrocampisti, qualche verticalizzazione, tantissima imprecisione, il gol che si è mangiato chi era? Vlasic, un gol assurdo in una buona transizione con Guendouzi e con Immobile, Immobile ha anche un po' acceso la partita, Pedro ha giocato abbastanza bene, Guendouzi è stato probabilmente il migliore, anche per il gol, anche per le Grini che gli ha servito l'assist, comunque ha fatto una buona partita, si può trovare qualcosa di positivo si trova, io adesso non so quanto mi andrò a scontrare con le opinioni prevalenti dei tifosi della Lazio che eventualmente sono in ascolto, ma capite che qui bisogna un attimo contestualizzare la situazione, poi arriva appunto la dichiarazione di Sarri e ci mette anche un po' di dati di rendimento recenti della Lazio, come ho già detto in un precedente video e probabilmente lo ripeterò anche domani, io vorrei capire a che gioco sta giocando la Lega Serie A, perché mettere queste partite che si preannunciano scialbe, che si preannunciano speculative, con tanta paura addosso, senza grande voglia di vincere, quasi a togliersi il peso, quasi a togliersi il pensiero, vinciamo e andiamo avanti senza stare qui a fare chissà cosa, mettere queste partite in contemporanea, quindi senza grande calcio, con la Premier League, non con l'FA Cup, con l'IFL, magari un'altra Coppa Nazionale, dove può capitare anche all'estero, anche in Inghilterra che si faccia turnover o che magari non venga fuori una bellissima partita, ma con la Premier League io non so a che gioco si stia giocando, perché lo fai con Lazio Genoa che si preannuncia una partita non spettacolare e c'è nel frattempo Lutontown Arsenal che c'è fuochi d'artificio e poi lo ripeti stasera con Fiorentina Parma, speriamo, speriamo che Fiorentina Parma sia una partita degna di essere guardata, ma nel frattempo ci sono comunque Aston Villa, Manchester City e Manchester United e Chelsea, secondo voi non tanto un tifoso inglese che è scontata la risposta e comunque dipende anche da chi trasmette le partite, dove e quando, ma in un tifoso di calcio in generale, specificamente un tifoso italiano, che comunque la Coppa Italia, se non la guardiamo noi italiani e residenti in Italia, chi dovrebbe guardarla, con tutto che è anche gratis, secondo voi che cosa preferirà? C'è lo sfasamento di un quarto d'ora, mi sembra, forse la Premier League comincia alle 21.15 italiane, la Coppa Italia, cioè guardi un quarto d'ora e dici ok adesso cambio canale, anche perché non è che magari le squadre speculativamente, proprio in maniera strumentale, si impegnano di più nel primo quarto d'ora, no il primo quarto d'ora è proprio il peggiore, cioè è quello che più ti fa passare la voglia di guardare la partita, che più ti fa dire adesso cambio canale, perché si comincia proprio lenti, con passati, senza mordente, senza grande impegno, e Sarri parla di una partita che è stata più godibile perché ha il ritmo più alto rispetto a quella col Cagliari, e avrei voluto dirgli ma ci mancherebbe altro, il Lazio-Cagliari è stata una partita squallida, è stata una partita imbarazzante, è stata una prestazione veramente minima della Lazio, che addirittura in superiorità numerica per quasi tutta la gara ha sofferto il Cagliari, cioè Ranieri alla fine ha giocato con due attaccanti, ha giocato con due centravanti in inferiorità numerica, e non si è mai vista la superiorità della Lazio, mai, ieri erano in parità numerica, ma onestamente di gioco si è visto veramente poco, quindi colpa di Sarri e colpa anche di Giliardino, ma ovviamente più di Sarri, perché Sarri ha i mezzi, gli strumenti come squadra e come obiettivi per imporsi, per dominare, Giliardino ci può anche stare, nel momento in cui l'avversario non affonda il piede sull'acceleratore, gestisca la partita, comunque l'ha fatta anche Sarri per la verità, richiamando i suoi Giliardino ad una certa intensità, comunque ad attaccare, quindi comunque non è che li ha abbandonati, ma ci sta che si adegui, sperando magari in un episodio, in un'occasione, per pareggiarla perlomeno e portarla eventualmente a supplementari, o essere più fortunato, quindi le responsabilità sono chiaramente più di Sarri, che ha detto una serie di cose interessanti su Castellanos, su Rovella, come deve verticalizzare, ha parlato di calcio anche nelle dichiarazioni post partita, ma c'è una parte su cui io non posso mai essere d'accordo, la Lazio viene dai fischi dell'Olimpico contro il Cagliari, che come ho già detto sono giustissimi, e come ho già detto le dichiarazioni di Martuscello, che è intervenuto ai microfoni perché Sarri era influenzato scorso weekend, sono delle dichiarazioni inaccettabili, vergognose, non esiste lamentarsi per i fischi, dicendo sì ma c'è gente che gioca peggio anche qui vicino a noi, e si riferiva alla Roma di Murigno, non esiste, si deve portare rispetto per i tifosi e rispetto per i tifosi insoddisfatti, perché questa è una soddisfazione pienamente motivata e meritata. Ma se Sarri dice ci danno in crisi da tre anni, cioè questa è la terza stagione tradotto, perché è la terza stagione di Sarri, non sono tre anni compiuti, ma siamo in crisi da tre anni, e poi abbiamo vinto tre partite in una settimana, ma è Sarri o qualcun altro? Chi è entrato al post? Chi è entrato nel corpo di Sarri a parlare? Perché non sembrano dichiarazioni da Sarri, Sarri non era quell'allenatore che è stato anche tanto travisato, è stato anche tanto frainteso, ma non era comunque quell'allenatore che puntava sempre sulla qualità del gioco, prima che sul risultato, che me ne frega che hai vinto tre partite, con tutta onestà, bisogna vedere come le hai vinte. Allora mi sono appuntato un po' il rendimento della Lazio recente, secondo Wisecout, come sta andando, parliamo un po' dell'evoluzione del gioco, perché dobbiamo parlare di questo. Ora, Sarri su qualcosa ha anche ragione, ma non su tutto, però è proprio come la si imposta. Cioè, allora dobbiamo tornare a mettere davanti il risultato? Dobbiamo fare i risultati, anche Sarri fa il risultatista, fanno tutti i risultatisti. Che cos'è il risultatismo? Il risultatismo è quell'approccio nell'ambito del calcio, parliamo nell'ambito del calcio anche se sul risultatismo si potrebbe parlare in tutta la società, in tutta la cultura, è quell'approccio che ti porta a mettere in primo piano il punteggio, neanche il risultato, perché in realtà sarebbe risultato anche vincere un contrasto, fare un passaggio preciso, attaccare, fare una fase d'attacca, creare un'occasione di gol, anche quello è il risultato, è il risultato di un percorso, di un lavoro, dell'impegno, di quello che fa in campo, è il risultato della prestazione. Quindi sono tantissimi, c'è una miriade di risultati. E più che altro è il punteggio, cioè 1-0, e quindi si mette in primo piano quello, anzi si valuta esclusivamente quello, e tutto da quello si fa derivare. Se è vinto 1-0, quindi va tutto bene, quindi comunque ci sono più cose positive che negative. E il calcio italiano è radicalmente, profondamente, irrimediabilmente purtroppo risultatista nei media, nei giornali, negli opinionisti, negli addetti ai lavori, quindi calciatori, ex calciatori, allenatori, ex allenatori, opinionisti di ogni tipo, profondamente, e anche i tifosi, profondamente risultatista nel senso che si bada al punteggio. E allora che si gioca a fare? Allora che parliamo a fare di diritti tv? Che accendo a fare la tv per guardare la zio Genoa? Me lo dici prima, me lo dici prima Sara, mi dici guarda non la guardare, alla partita, guarda direttamente il risultato perché noi stasera puntiamo al risultato senza fare necessariamente la prestazione. Alla fine, non siamo in crisi, non sei in crisi perché hai vinto? Non sei in crisi perché hai vinto? Ma non posso aspettarmi, non mi posso aspettare da Sara o una cosa del genere. Perché lo sa benissimo che la crisi non dipende dai risultati, dal punteggio, ma dipende eventualmente dal gioco. Ci sono crisi e crisi. Ovviamente se stai vincendo non sarai in crisi di risultato, ma puoi essere in crisi di prestazione. Quindi perché fare queste banalizzazioni? È la stessa cosa di Davide Calabria quando il Milan ha vinto contro la Fiorentina in maniera prevalentemente immeritata. La prestazione stasera passava in secondo piano, l'unica cosa che contava era vincere. Allora, caro Davide Calabria, capitano del Milan, vai un attimo a rimborsare i biglietti ai tifosi che sono venuti a vedere la partita e chiedi anche scusa, perché avreste dovuto dirglielo prima. Non venite, non spendete soldi. Se avete l'abbonamento ve lo rimborsiamo per la quota di questa partita. Non guardate la partita in tv, perché tanto noi puntiamo solo al risultato, la prestazione passa in secondo piano. Quindi non perdete tempo, arrivate alla fine, dopo che è finita la partita, vedete il punteggio che finisce lì. Vogliamo essere onesti? Allora, vado appunto a commentare un attimo il rendimento della Lazio, se no vado per le lunghe. Come sta andando la Lazio? Perché la Lazio sta migliorando su alcune cose, ma sta anche peggiorando su altre. Quindi è di crisi, non so se si può parlare di crisi, ma sicuramente non si può parlare di una bella Lazio, di una Lazio migliore possibile. Ecco, in che cosa sta migliorando la Lazio? Negli XG, nelle ultime partite, stanno aumentando gli XG a partita e stanno diminuendo gli XG degli avversari. Inoltre la Lazio sta facendo più tiri in porta e sta subendo meno tiri totali e sta subendo anche meno tiri nello specchio. Sta facendo più passaggi e sta riducendo i passaggi concessi. sta facendo più possesso palla, sta facendo più contropiedi e più contropiedi con conclusione. Il che però non necessariamente è un dato positivo, dopo vediamo. Cioè la Lazio sta attaccando più per mezzo del contropiede e arrivando anche al tiro, quindi comunque con efficacia, che non in altro modo. Stanno aumentando gli intercetti, aumentano nell'ambito dell'aumento di passaggi i passaggi in avanti, anzi aumentano i retropassaggi, perché i passaggi in avanti non stanno aumentando significativamente. Quindi questo aumento dei passaggi della Lazio in realtà lo si trova più che altro nei retropassaggi e nei passaggi laterali. Quindi, quindi dopo andiamo a vedere anche il ritmo di gioco, però, cioè, in che modo sta migliorando la Lazio? Questi aumenti in cosa si vedono? Dopodiché aumentano, diminuiscono invece i passaggi in avanti concessi e questo è un buon dato, cioè l'avversario medio della Lazio in queste ultime partite tra Italia ed Europa riesce a fare meno passaggi in avanti a partita. Inoltre, aumentano i lanci lunghi, aumentano, e non so se questo può essere visto come un miglioramento, aumentano, anzi, diminuiscono i passaggi concessi agli avversari verso la tre quarti, e quindi è in uno con il discorso che diminuiscono i passaggi in avanti, sta aumentando il ritmo di gioco, quindi i passaggi in media per minuto di possesso palla e la media di passaggi per segmento di possesso palla, che danno l'idea della velocità del gioco della Lazio. Però attenzione, perché se aumentano i passaggi, ma prevalentemente il retropassaggio è passaggi orizzontali, e passaggi laterali, e quindi mi aumenta il ritmo di gioco e la media dei passaggi, questo aumento del ritmo di gioco e della media dei passaggi sono aumenti che sono, capite, statici, che sono apatici, che sono passivi, che non sono produttivi, che non sono offensivi, ma che sono ricorsivi, autoreferenziali. Mi passo la palla addosso, me la passo più veloce di prima, ma sempre addosso me la passo. Si sta riducendo il PPDA, quindi sta migliorando l'intensità del pressing, si sta invece aumentando il PPDA, e quindi si sta riducendo l'intensità del pressing degli avversari, quello subiti, e poi sta anche, si sta abbassando la distanza media di tiro, mentre si sta alzando la distanza media di tiro degli avversari, in queste ultime partite. Quindi la Lazio tira da più vicino, e non da più vesino, e gli avversari tirano da più lontano, ma ci sono anche dati in peggioramento, e cioè i tiri totali si stanno riducendo, cioè la Lazio tira di più in porta, ma tira di meno complessivamente, quindi è una squadra meno produttiva, capite? Cioè stiamo descrivendo il quadro di una squadra che è meno propositiva in questo momento. Aumentano, anzi, diminuiscono gli attacchi posizionali, e gli attacchi posizionali con conclusione, e se aumenta il contropiede, e aumentano i passaggi laterali e i retropassaggi, è una Lazio che sta più rintanata dietro, mi sembra evidente, è abbastanza chiaro il quadro, fanno meno attacchi posizionali, concedono anche più attacchi posizionali, concedono più attacchi posizionali agli avversari, concedono più corner, concedono anche più corner efficaci, cioè che arrivano alla conclusione in porta, concedono più cross, diminuiscono anzi i passaggi in avanti, non l'ho detto prima, ma abbiamo spiegato, aumentano i passaggi, ma i passaggi in avanti non stanno aumentando, aumentano i lanci lunghi concessi, e anche questo è un peggioramento, diminuiscono anche i passaggi verso la trequarta e i passaggi progressivi, quindi addirittura diminuiscono nell'ultima partita, o comunque sono sotto media, rispetto ad un aumento complessivo del volume di gioco e dei passaggi. Ora, Sarri queste cose le sa molto meglio di me, perché è un grandissimo studioso del calcio, minuzioso, va a vedere tutti quanti i dettagli e ha giustamente tutta la struttura e lo staff che lo assistono in queste valutazioni. Ma allora perché dire non siamo in crisi perché abbiamo vinto tre partite? Io penso che i tifosi si meritino altro, penso che i tifosi della Lazio, i tifosi del calcio in Italia meritino altro, aspettino altro, cerchino altro, e alla fine vai avanti, vai avanti, uno potrà anche sentirsi legato alla propria squadra del cuore in eterno e non riuscire ad abbandonarla e quindi seguirla sempre, però cercando altro e cercando altro finiranno le persone per andare a guardare altro, e cioè a guardare Lutontown Arsenal oppure le altre partite di Premier League di stasera in contemporanea con Fiorentina Parma che alla fine vedremo poi, quelli che saranno chi ascolti, ma soprattutto sperando che almeno i tanti o pochi che tra stadio e tv guarderanno la partita non siano delusi, non rimangano delusi e non ci sia la mancanza di rispetto, perché proprio di mancanza di rispetto bisogna parlare, che c'è stata ieri il Lazio Geno. Il Lazio Geno è stata una partita tristissima, una mancanza di rispetto. Poi ripeto, nel secondo tempo si è visto anche qualcosa di buono, è aumentato un po' il ritmo, non è tutto da buttare, però onestamente è una partita che chi ha evitato di guardarla non si è perso nulla. Grazie per l'attenzione, buon dibattito nei commenti e anche sul mio server Discord, link in descrizione con tanti spazi per parlare di calcio, anche della Lazio in particolare, quindi se i tifosi laziali vogliono confrontarsi con altri tifosi laziali e tifosi di altre squadre, c'è proprio una stanza apposita sul mio server Discord per parlare di questo e parlare di calcio in generale. Se il video vi è piaciuto mettete like e condividetelo, iscrivetevi, attivate le notifiche a questo canale per non perdere i prossimi contenuti, iscrivetevi anche al mio secondo canale Absim Out con video brevi sul calcio e su questo canale potete anche abbonarvi a partire da 99 centesimi al mese per tantissimi vantaggi. Ci vediamo molto presto e per il calcio senza compromessi sempre Allegri Out!